Benvenuti nella recensione di Destroy All Human 2 Reprobed. Pronti per iniettare il pianeta Terra? Scopriamoli in questa recensione. Prodotto THQ Norby. Sviluppo Black Forest Games, lingua in italiano, disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC. Ovviamente non c'è la versione per PlayStation 4 e Xbox One. Supporto in 4K? Sì. Redditorisi attivo? No. Prezzo di lancio? Circa 40€. Genere, TPS e avventura? Parliamo un po' della trama. Crypto è tornato e ha la licenza di sondare gli umani, ovvero i loro culetti. E ovviamente conquistare il pianeta Terra. Mi fermo qua per evitare spoiler o rovinare i colpi di scena. Parliamo invece della grafica. Allora, partiamo che si tratta di un remake del secondo capitolo uscito parecchie anni fa, sempre prodotto da THQ Nordic. E a livello tecnico è uguale al primo remake. Perciò dimenticatevi passi in avanti, quello lo vedrete forse se ci sarà un seguito, ovvero un terzo capitolo. Le abitazioni sono dettagliate e varie, con frame rate stabile. Curato anche il design dei personaggi e nemici, che risultano essere dettagliati, curati, caratterizzati con animazioni fluide. Insomma, dal punto di vista tecnico, hanno fatto un bel lavoro. Buono anche comparto audio, con musica a tema ben implementate e una traduzione in italiano buona. E adesso direi di andare a vedere un po' com'è il gameplay. Ci vediamo tra poco. Eccoci qui con la parte del gameplay. Un alieno che si rispetta e deve sempre utilizzare con cura il proprio equipaggiamento per divertirsi a conquistare la terra. Invece un giocatore ribasta un pad alla mano e un gioco divertente. Infatti questo gioco propone questa tipologia di gameplay. Immergendo il giocatore in un gameplay frenetico, divertente, sia giocato da soli o in coppia con un amico a schermo codiviso online. Nel gioco avremo a disposizione una buona varietà di armi e abilità, esempio il controllo mentale. Sia le armi e le abilità potranno essere potenziate. Se proprio questo non basta per conquistare la terra, potremo sempre utilizzare il nostro fidato UFO per demolire ogni cosa che troveremo sul nostro cammino. Diciamo che il gioco si ispira un po' ai famosi film di fattacienza degli anni 90-80, un po' come la guerra dei mondi. Infatti questo gioco si ispira appunto a queste tipologie di film e lo fa in grande stile, con un pizzico di umorismo. I combattimenti contro i nemici, specialmente contro i boss, sono spettacolari, divertenti e frenetici. Ma purtroppo devo segnalare un piccolo problema. L'indigenza artificiale, certo, è aggressiva, combatte, tiene impegnato comunque il giocatore, ma nulla di complicato. Avrebbe bisogno di una piccola miglioria. Adesso direi da passare alla sintesi, vediamo un po' se consiglio o no, Destroy Human 2. Ci vediamo tra poco. Cari amici alieni che state conquistando la terra, Destroy Human 2 Remake e fai sul bel porco lavoro, in modo dignitoso. Ovviamente chi si aspettava un passo avanti a livello di grafica e anche di gameplay, ovviamente dovrà aspettare un terzo capitolo. Ma questo segue lo stesso finone del primo remake, curato, dettagliato sia graficamente, piuttosto bello e un gameplay divertente sia in singolo e in cooperativa, a schema codiviso online. Certo, l'unica pack è un po' l'indigenza artificiale che ovviamente andrebbe un po' migliorata. E ovviamente la grafica andrebbe un po', diciamo, migliorata, ma questo lo vedremo in un terzo capitolo. Comunque, per chi ha adorato i capitoli quelli vecchi e chi ha giocato il primo remake, ovviamente non può farsi scappare questo secondo capitolo, che poi, se giocato da soli o in cooperativa, sa divertire. Bene ragazzi, questa è la fine della recensione di Destroy Human 2, un remake, spero che vi sia piaciuta. Anche voi nei commenti fatemi sapere un po' una vostra opinione e noi ci vediamo per i prossimi video. Grazie a tutti, come sempre, per il vostro supporto e alla prossima. Bye bye.